Festa della musica in tutte le scuole italiane, anche in Molise, a Isernia in particolare ogni istituto didattico, come nel caso della San Giovanni Bosco Andrea di Isernia, si è preparato all'appuntamento con il giorno di Santa Cecilia, giorno dedicato alla musica. Oggi è il 22 di novembre, Santa Cecilia, e a livello nazionale si festeggia la giornata nazionale della musica, e quindi anche noi qui siamo chiamati a farlo. Che cosa avete organizzato qui alla San Giovanni Bosco? Nella scuola primaria abbiamo un percorso che vede coinvolte tutte le classi in un'orchestra corale di strumenti ritmici, un'improvvisazione ritmica sulle musiche del mondo. Uno spettacolo dedicato anche ai genitori, quello dei bambini della San Giovanni Bosco, che non solo hanno cantato e suonato con gli strumenti più disparati, ma hanno anche esposto tutti i loro lavori artistici preparati per l'occasione. Si tratta di un'iniziativa ministeriale che si sta svolgendo contemporaneamente un po' in tutte le scuole d'Italia e anche a livello centrale al Ministero. 21 e 22 novembre nessun parli perché praticamente la parola è data all'arte, alla musica, alla creatività. Ben volentieri la nostra scuola ha aderito e gli alunni siano stati protagonisti, come sempre, sia in veste di produttori che di fruitori. Le giornate sono state molto ricche di eventi, abbiamo iniziato ieri mattina e concluderemo stasera. Danza sportiva, innovazione didattica e digitale, contaminazioni musicali da arte e musica, teatro, produzione di strumenti musicali, riflessioni su grandi tematiche, quali la guerra, il razzismo. Insomma, a tutto tondo abbiamo dato spazio all'arte, alla creatività, rendendo protagonisti non solo gli alunni ma anche il territorio, perché i nostri genitori, come sempre, sono parte attiva sia nella formulazione di proposte, sia nella fruizione di eventi e nella condivisione di progetti della scuola. Grazie.